buonasera buonasera a tutti buonasera a tutte eccoci in diretta come promesso oggi sarei venuta in diretta assolutamente per per celebrare il giorno dopo dell'evento ok perché adesso abbiamo fatto il nostro evento che vi è piaciuto un sacco e lavate un sacco sta molto felice è stato un bellissimo evento abbiamo fatto tutto quello che vi ho promesso abbiamo fatto oggi quindi sono qua adesso sono da voi sono quasi le 8 è un orario strano in cui arrivo live lo so ma oggi è stata una giornata veramente intensa ho dovuto sbrigare un sacco di faccende tra cui anche l'organizzazione del mio trasloco e quindi dovendo organizzare anche il mio trasloco che avevo detto faccio l'evento poi di organizzare il trasloco oggi infatti sto iniziando a fare ordine alba che insegna a fare ordine sta vi sta dicendo che inizierà a fare ordine nuovamente perché si prepara gli scatoloni organizzare le cose a portare tra poco mi danno le chiavi che la prossima abbiamo l'evento ok e quindi niente quindi oggi sono da quest'ora orario strano però comunque voi la guarderete indifferita e vi dico tre cose riguardo a ieri sera uno complimenti a chi c'è stata perché se è peccato un evento super ho fatto anche sessione live da bello sotto un sacco bello secondo è saltato secondo tutti coloro che hanno partecipato hanno hanno avuto la possibilità di poter avere un'opportunità super speciale ok che solo che ha partecipato la sa e ha aderito e ha diciamo fatto quello che doveva fare quindi brave terzo ok terzo di di quello che avete imparato di quello che avete insomma ascoltato di assimilare metabolizzare e volerlo mettere in pratica ora vedo che c'è qualcuno c'è una persona comunque live una persona l'ho beccata quest'ora un orario stranissimo comunque ciao e quindi volevo farvi sapere che cosa che ieri sera wow tantissime 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 tantissimi perché c'erano anche degli uomini hanno hanno colto l'opportunità quindi come ho detto quello elemento non è solo live quindi sono registrazioni non ci sono repiche prossimo evento comunque ci vediamo il 21 22 maggio nel gruppo mette in ordine la tua vita vi sto caricando gli interventi giornalieri per prepararvi all'evento seguitelo ok seguite il gruppo seguite gli interventi perché così vi preparate in tempo e niente poi vabbè prossimi live ritorno al solito orario all'una una una due vostre ok ma oggi veramente stata una giornata di impegnativa dal punto di vista proprio burocratico un sacco di chiamate sto organizzando un sacco di cose è un mese questo veramente pieno veramente devo cambiare contatto dell'acqua dell'elettricità tutto in portoghese quindi devo fare un sacco di chiamate mi devo dare le chiavi della casa il trasloco quindi adesso devo anche fare ordine riorganizzare tutto per preparare il trasloco più possibile per fortuna che il mio lavoro mi piace quindi in realtà mi entusiasma e come ho detto alle comunque mi sarei piaciuto comunque un po tenere traccia di questo trasloco per far vedere un po come l'avrei organizzato se riesco a tenere traccia beh cerchio di fare un reportage ok di tutto e niente io sto bene la voce come avete visto ieri sera non c'era oggi non c'era neanche sto oggi adesso c'è un po di più e cerchiamo di proseguire sono felice che tante di voi abbiano approfittato ieri sera dell'opportunità gratuita molti di voi hanno ascoltato perché ho letto qualche candidatura sono molto contenta il messaggio è arrivato a un po di persone il messaggio è arrivato ora io vi saluto comunque vi auguro una buona sedata una buona cena un buon riordino e ci vediamo nelle nostre piattaforme nelle nostre live appunto a orari decenti però so che tanto poi la vedrete tutta in replica ok un saluto grande a tutte e a tutti che guardano questa live ci teniamo aggiornati poi da domani in poi anche perché magari domani faccio una piccola live riprendo alcune domande che mi avete fatto durante l'evento ok che erano comunque interessanti e che sicuramente sono domande comuni che su cui fanno parte del nostro tema ordine disordine quant'altro ok ora vi devo salutare che ho altre faccende da fare però comunque un salutino ve l'ho fatto alba c'è sempre ok mi raccomando è ordine un abbraccio a tutte buona sedata e buona cena ciao ciao domani